Ben ritrovati in studio e dovremmo vedere appunto la parte telematica dei giornali, abbiamo un problema di connessione purtroppo per cui non riusciamo a vedere appunto le pagine della stampa telematica e proviamo appunto a vedere se tecnicamente riusciamo a ripristinare un po' il tutto, nel frattempo però possiamo vedere innanzitutto qualche notizia che insomma so che si trova comunque nella pagina dei quotidiani telematici, una di queste notizie è una che riguarda ancora la questione della Costa Concordia, la Costa Concordia che è stata oggetto ultimamente di interventi da parte del sindaco Pietro Di Dei precedentemente, anche il presidente dell'autorità portuale Pasqualino Monti si era proposto per far sì che la Costa Concordia che è incagliata come saprete all'isola del Giglio venisse appunto portata al porto di Civitavecchia per essere naturalmente poi smantellata definitivamente. Si è aperta appunto questa possibilità, poi però ci sono state una serie di vicissitudini che sono successe e che sembrano invece allontanare questa possibilità fino al recente intervento appunto di sabato scorso ancora una volta del sindaco Pietro Di Dei per cercare di far sì che questa situazione possa verificarsi appunto al porto di Civitavecchia. Vi proponiamo questo servizio mentre cercheremo naturalmente di ripristinare la connessione internet e intanto appunto però vediamoci questo servizio sulla Concordia. Il sindaco Di Dei torna a puntare i fari sulla demolizione della nave Costa Concordia e questa volta lo fa scrivendo al presidente della regione toscana Enrico Rossi, al responsabile economia e lavoro del PD Stefano Fassina e al segretario PD Pierluigi Bersani. Questa volta il suo intervento è dettato dalle notizie apparse sull'edizione toscana dell'unità della riunione in corso presso il ministro Clini per decisioni che riguardano il sito dove verrà demolito lo scafo della Costa Concordia, riunione a cui la città di Civitavecchia non è stata però invitata. Comprendo facilmente, spiega il sindaco, le motivazioni di ordine sociale che spingono la regione toscana a insistere perché venga prescelto Piombino poiché sono identiche a quelle che sostengo io per Civitavecchia. Ma allo stesso tempo appunto il sindaco Civitavecchiese lamenta che a una riunione tanto importante dove potrebbe essere deciso il sito di demolizione non si sia considerata l'opportunità di coinvolgere Civitavecchia avendo questo porto caratteristiche donne allo smantellamento della nave in questione con minor costi e con tempistiche più rapide. Anche le distanze fra il Giglio e Civitavecchia proseguite idee nella lettera sono identiche a quelle con Piombino, motivo per cui il primo cittadino della città portuale richiede la promozione di una nuova riunione al fine di dare la possibilità anche a rappresentanti del nostro scalo di poter illustrare la possibile convenienza in termini di ambiente, costi, rapidità di esecuzione, sicurezza dell'utilizzo del nostro porto. Questo dunque è il servizio che vi dicevo sulla questione Concordia, i nostri fantastici tecnici hanno ripristinato tutto in men che non si dica per quel che riguarda invece la possibilità di andare a vedere appunto i quotidiani telematici. Andiamo a vedere allora il titolo principale per quel che riguarda cimonline.it dove si parla di HCS con i sindacati che dicono no alla privatizzazione selvaggia. Le organizzazioni sindacali tornano a ribadire la loro contrarietà alla privatizzazione selvaggia di HCS e delle SOT. Questo è l'argomento principale per cimonline.it ma è un argomento che naturalmente tiene banco un po' su tutti i quotidiani telematici. Vediamo ad esempio anche bignotizie.it che però titola dal pincio 12 borse lavoro senza coinvolgere il sindacato. Questa notizia appunto di poco fa. Poi si parla ovviamente di HCS con molto spazio, lo vedete anche dal titolo. Così si va allo scontro, lo dice il segretario generale della CGL che interviene sull'ipotesi di vendita di HCS fissato per mercoledì il nuovo incontro in maggioranza. Cagliazza ricorda che è ancora aperto il confronto tra giunta liquidatori e sindacati sul futuro della holding e dice non accetteremo soluzioni prese unilateralmente. Questa appunto la frase che ha usato il segretario della CGL Cesare Cagliazza. Vediamo trcgiornale.it invece che appunto apre anch'essa con la vicenda HCS. Cagliazza basta parlare della vendita di HCS. Questo è il titolo scelto dal quotidiano trcgiornale.it. Sempre su questo argomento. Poi Tidei più per quel che riguarda la parte politica dice non c'è stato nessun ultimatum a sinistra ecologia e libertà. E poi naturalmente anche altri argomenti come per esempio le elezioni. C'è questo articolo che propone appunto il quotidiano trcgiornale su questo rush finale della campagna elettorale più povera degli ultimi 20 anni. Questo è quanto dice il quotidiano trcgiornale.it. Poi si parla anche ancora di elezioni perché nonostante l'austerity continua il manifesto selvaggio. Questo appunto è quanto scrive ancora il quotidiano trcgiornale riprendendo poi una serie di interventi che sono stati fatti appunto in questo senso anche da vari esponenti politici. Vediamo invece le altre notizie per quel che riguarda il quotidiano bignotizie.it con il titolo sul processo capitani. Sfileranno i testi del pubblico ministero. Lo assicura il procuratore capo Amendola che richiama all'articolo 507 del codice di procedura penale. E poi cimo online.it. Possiamo anche qui andare a vedere appunto gli altri titoli. Troviamo appunto il stesso argomento ovvero il procuratore capo Gianfranco Amendola che dice il processo capitani avrà tutti i testi. Il procuratore capo interviene dopo le polemiche sull'esclusione dei testi dell'accusa dal processo per la morte dell'operaio alla cantiere di Torre Valdaliga Nord. E poi la demolizione della Concordia. Vi avevamo proposto prima appunto il servizio con T-Day che dice Civitavecchia esclusa dall'incontro con Clini. Torna a parlare appunto della Concordia il primo cittadino dopo la notizia apparsa sull'edizione toscana dell'unità e di una riunione in corso presso il ministro Clini, presso l'ufficio del ministro Clini per decidere il sito dove verrà demolita appunto la nave da crociere. Civitavecchia appunto non era presente come avete sentito appunto dicevamo nel servizio precedente. Cambiamo decisamente pagina. Parliamo di spettacolo perché abbiamo ricevuto una gradita visita sabato scorso ai microfoni di Radio Stella a città dove sono venuti alcuni giovani interessanti. Uno di questi ha fatto parte di Amici Dieci. Non vi voglio rovinare la sorpresa, vedete l'intervista. Questo nuovo video, il nuovo singolo come si intitola? La mia vita. Dove è stato girato? Interamente a Tolfa e nelle campagne intorno a Tolfa. E sappiamo che oltre al nostro Scecchi ci sarà anche un altro personaggio. Che è Antonio Mungari, che è qui vicino a me. Antonio Mungari, ciao Antonio. Ciao a tutti. Allora, Antonio Mungari che sappiamo è uscito dalla casa di Amici nel 2010. Com'è stata questa tua partecipazione? Cosa ti ha lasciato quella partecipazione di Amici? È stata un'esperienza molto difficile ma comunque molto bella che mi ha lasciato cresciuto dentro, mi ha fatto crescere. E ora invece parliamo un attimo anche con Scecchi. Scecchi, questa tua collaborazione, hai voluto tu la collaborazione di Antonio, come è stata? È stata bellissima, bellissima esperienza. Soprattutto perché Antonio è un bravo artista, un bravo ragazzo, un bravo umile. Cioè è nato un bel feeling sia dentro al set, sia in studio che al di fuori ovviamente. Ma mi hai cantato un pezzo della canzone? Non ho detto, non te la cantiamo. Le sei famose note? Questa è la mia vita. E basta. E basta. Non si può. Non si potrebbe però. E niente di più? Niente di più. Ma un sei bellissima? Sei bellissima, uno spettacolo per me. Sei bellissima, sei bellissima. Scecchi e Antonio Mungari con il loro nuovo singolo da marzo, il 30 marzo, giusto? Giusto, giustissimo. Presentato in anteprima, come avete sentito, al microfono del nostro Alex. Di sì, una bella sorpresa. Andiamo a vedere velocemente invece quelli che sono i titoli principali per la stampa nazionale. Cominciamo con La Repubblica, che titola sulla politica l'intervento del Premier Monti, che insiste sul duello tra leader, non trattare italiani da minorati, dice Monti. Berlusconi rieplica, mi confronto solo con Bersani. Grillo annulla l'intervista a Sky, la televisione dunque diventa la protagonista di questo ultimo scorso di campagna elettorale. Scontro a distanza tra il Premier e il Cavaliere, che parla di professorino terrorizzato perché non entrerà in Parlamento. Il leader del Movimento 5 Stelle si ritira dall'intervista fissata. La TV è come il cimitero, ha detto. E poi Bersani, che invece dice che Grillo è spaventato dalle domande e per questo non va in TV. Il Corriere della Sera, anche il Corriere titola sulla politica e sul confronto. La politica alla prova dei fatti, questo il titolo. Quanto costano i programmi dei partiti? Difficile il taglio di 400 miliardi indicato dal PDL. Analisi di Oxford Economics per il Corriere. Questo appunto è quanto scrive il Corriere della Sera. La stampa, che invece titola appunto ancora sul confronto TV. Monti rilancia sul confronto TV a tre non trattare gli italiani da minorati. Ha detto sbarramento e premi, le trappole della legge elettorale. La campagna elettorale è al rush finale. Berlusconi dice il duello solo con Bersani. E Grillo cancella la sua intervista a Sky. Il professore insiste, poi l'attacca il Cavaliere. La replica è terrorizzato perché resta fuori. Vediamo invece che cosa propone il giornale. Anche il giornale titola su questa questione del confronto televisivo. Duello TV, il Cavaliere a Zeramonti dice il giornale confronto solo con Bersani. Questo appunto è quanto ha detto Berlusconi, che il confronto lo farebbe soltanto con Bersani. Il messaggero invece titola su un'altra frase, l'ennesima frase di Berlusconi contro la magistratura. Berlusconi magistrati cancro della democrazia ha detto il confronto TV solo con Bersani. L'ex premier torna all'attacco contro i giudici e su Grillo dice ha un'anima cattiva. Beppe Grillo avrebbe un'anima cattiva secondo Silvio Berlusconi. E con questo, con i maggiori titoli appunto dei quotidiani nazionali, noi chiudiamo la nostra rassegna stampa di oggi, che tornerà come sempre domani qui su Provincia TV a partire dalle 10.30. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata a tutti. Grazie per averci seguito. Grazie per averci seguito.